Ho sempre fatto video seriamente, sono le 2 e 29 di notte e non posso iniziare a registrare questo video adesso perché sono esageratamente incazzato e purtroppo non posso non incazzarmi per questo quarto video di Telecom Italia perché non avete idea di cosa è successo, quindi rimandiamo a domani E' passato un po' di tempo da quando ho fatto l'ultimo video, ormai è il 30 gennaio il video l'ho fatto il 17 gennaio, casualmente sono le 17 e 17 ma va bene e quando praticamente mi ero leggermente incazzato per un casino che è successo con Telecom ho fatto un casino di ritardo a caricare questo video e penso che non uscirà comunque a brevissimo perché non ho linea, non ho linea attualmente come potete ben vedere e quindi praticamente sono in attesa dell'attacco della nuova rete perché probabilmente cosa è successo? Voi siete rimasti al punto che io avevo mandato il fax a Telecom Italia per chiudere questa linea il fax che l'ho mandato verso metà dicembre io da tipo 10 giorni dopo ho chiamato quasi sempre Telecom Italia chiedendo appunto a che punto fosse la disattivazione della mia linea e loro mi hanno sempre detto tipo ma si c'è la linea in fase di disattivazione entro qualche giorno dovrebbe chiudere, entro una settimana al massimo bene, quindi chiamo praticamente verso i primi di gennaio mi dicono che è sempre in attesa di chiusura della centrale proprio quasi tutto fatto praticamente cosa succede? succede che io li chiamo il 7 gennaio e loro mi dicono no guarda non esiste cioè quello che hai fatto non è assolutamente la procedura standard di chiusura linea e dico come? quindi la linea non è in fase di chiusura? no la linea non è in fase di chiusura qua vedo tutto aperto, tutto normale e lì mi sono incazzato perché dico scusa ma cosa mi avete detto finora allora? cioè cosa mi avete inventato finora in tutto questo tempo? e loro mi hanno detto ma non so cosa le hanno detto i miei colleghi sinceramente però io posso dirle che per disattivare una rete insomma una linea telefonica che comunque è di conseguenza una linea DSL è necessario scaricare un modulo da internet di chiusura linea e inviarlo tramite raccomandata alla casella postale 111 di Roma Fiumicino e quindi praticamente mi sono incazzato perché ho detto scusa ma mi avete fatto perdere tutto questo tempo? e perché? non lo so sinceramente perché le hanno detto questo penso di averlo capito da solo perché perché se io gliela mandato verso metà dicembre e le era raccomandata adesso la linea era già chiusa per dicembre invece così mi fanno aspettare tutto gennaio e infatti cosa mi è arrivato? cosa mi è arrivato? mi è arrivata il conto mensile di gennaio 2016 esattamente quindi appunto alla fine penso che sia questo il motivo perché non ci sono altre spiegazioni sul perché farmi inviare questa raccomandata verso metà gennaio ovviamente per farmi pagare la fattura di gennaio ovviamente e quindi cosa è successo? ho mandato la raccomandata volevo fare il prima possibile per ovvie ragioni infatti adesso è il 30 gennaio e la linea non è ancora totalmente chiusa e ho fatto la raccomandata 1 praticamente la procedura standard è raccomandata con ricevuta di ritorno io ho fatto la raccomandata 1 con ricevuta di ritorno appunto e quindi la raccomandata è arrivata il giorno dopo per fortuna thanks post italiane grazie e quindi praticamente l'è arrivata e l'hanno presa in carico il 10 gennaio mi pare adesso è il 30 20 giorni dopo e dovrebbe essere tutto in chiusura però alla fine non lo so effettivamente se è realmente tutto in chiusura oppure oppure ci sono problemi non lo so so solo che praticamente mi ha chiamato il tecnico della fast web molte volte solo che io non ho potuto rispondere essenzialmente perché mi ha fatto squillare il telefono per talmente poco tempo e in momenti in cui io non potevo nemmeno rispondere quindi per una settimana non ho avuto praticamente la possibilità di rispondere al tecnico e la settimana dopo mi ha chiamato insomma mi pare fosse il 25 mi ha chiamato gli ho risposto abbiamo fissato un appuntamento per il 2 febbraio e cosa è successo? è successo che ho detto vabbè il 2 febbraio a posto no sono andato al cinema due giorni fa e e proprio mentre ero al cinema appunto mi chiama e mi fa senti ma che ci sei a casa perché io potrei passare da Vaiano adesso come adesso? cioè io non ci sono però ho pensato c'è mia nonna comunque in casa quindi se è possibile magari se cioè se non deve interagire per forza con me insomma se deve fare test alla linea fine può cioè penso che non ci sia un problema quindi ho chiamato quindi ho chiamato mia nonna ho detto che va bene quindi ho richiamato il tecnico quindi è venuto il tecnico due giorni fa bene ieri la mia connessione con Fastweb è stata attivata e adesso è attiva solo che c'è un problema il problema è che per far funzionare questa connessione è necessario il modem Fastweb nella mia offerta che è la la Superjet praticamente il modem è incluso però abbia ragioni perché praticamente è incluso a gratis per sempre perché praticamente con il mio router che è sempre stato questo il Netgear Geni DGN2200 no? che è tra i modem consigliati della Fast proprio non non praticamente non funziona internet cioè non non riesce a connettersi non so di preciso perché ma la connessione non c'è non c'è connessione proprio come potete ben vedere quindi non non posso non posso farci niente non posso far nulla vedete cioè qua c'è scritto praticamente connessione in arrivo 7232 kbps upstream 740 kbps i valori sono a posto però non si può connettere la rete non si connette perché appunto è necessario il modem della Fast appunto quindi quando va a richiedere l'IP all'ISP praticamente lui glielo nega non è possibile insomma richiedere questi dati tramite questo modem quindi quindi adesso non posso dire chissà cosa perché comunque posso solo vedere le statistiche di connessione che sono anche buone comunque perché tipo in downstream a 7232 kbps non sono male se la velocità effettiva sarà realmente questa sarà perfetto e l'upload è più veloce questa di quella di Telecom Italia anche nella scheda del router quindi mi aspetto qualcosa di più sinceramente i valori di attenuazione in linea e rumori di fondo sembrano essere a posto non sembra esserci nessun problema quindi penso proprio che sia tutto a posto l'unica cosa è che ho bisogno di sto modem per far funzionare la connessione perché non è possibile utilizzare insomma questo modem qua quindi a sto punto io penso di fermare il video qui perché è abbastanza inutile continuare a fare un video senza dir niente e pensare di aver detto tutto e e quindi praticamente ci vediamo direttamente con un nuovo video che registrerò appunto lunedì quando mi arriverà il modem per fare uno speed test di questa connessione con fast e quindi praticamente grazie a tutti per aver visto questo video sperando che non vada molto avanti perché se avessi anche problemi con fast sarebbe veramente un grave problema veramente un grave problema quindi grazie a tutti per aver visto il video arrivederci a tutti e fine insomma